Sofìa! 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 A parte il libro di Sofìa, quante ragazze o ragazzi leggono e alzino la mano? Ah, tanti! Da oggi si è inaugurata questa bellissima iniziativa, si chiama Book Sharing, Bicolungo Book Sharing. Quando venite qua, se tornerete, anche quando non ci sarà Sofia, potete lasciare un libro che avete già letto e che magari vi è piaciuto e potete prenderne un altro. Non sono sicuramente una persona ordinata, quindi non ho un metodo, prendo anche nella vita quotidiana cose che possono interessarmi e di cui poi mi viene voglia di parlare. Scrivete e siate fiere di quello che scrivete e provate a scrivere meglio e migliorate e continuate a scrivere. Il succede di Sofia, qual era? Il piccolo principe. Voi l'avete letto il piccolo principe? Ma che lecchine, sì! Voi l'avete letto!